Gentili amici telespettatori, bentrovati a questa nuova edizione del TG8. In apertura parliamo di Cronaca, maxi confisca della Dia di Lecce. Requisiti beni per oltre 1 milione e 600 mila euro. Locali, abitazioni, terreni e aziende riconducibili a Giovanni Mazzotta, il cinquantenne di Monteroni di Lecce, ritenuto vicino al clan Tornese, sono passati definitivamente nelle mani dello Stato italiano. I dettagli nel primo servizio. La Direzione Investigativa Antimafia di Lecce ha confiscato in via definitiva aziende e beni immobili per un valore complessivo di oltre 1 milione e 600 mila euro, riconducibili a Giovanni Mazzotta, il cinquantenne di Monteroni, ritenuto vicino agli ambienti del clan della Sacra Corona Unita dei Fratelli Tornese. Mazzotta è stato già condannato con sentenza definitiva per traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento di confisca è divenuto irrevocabile a maggio scorso con la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi da parte della Corte Suprema. La misura fa seguito a quella di sequestro anticipato eseguita dalla DIA nel 2011 ed emessa dal Tribunale di Lecce. La proposta di misura patrimoniale era stata avanzata dal procuratore della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta, a conclusione dell'attività investigativa, che ha consentito di accertare una netta sproporzione tra gli esigui redditi dichiarati da Mazzotta e l'ingente patrimonio a lui riconducibile. I sigilli sono scattati a un locale, due abitazioni, un villino e un terreno, tutto a Monteroni di Lecce. Nelle mani dello Stato passano in via definitiva anche la società Gianco SRL, la Dennis di Leverano e i relativi immobili, la Miche SRL con sede a San Cesario e l'intero complesso immobiliare dove assede l'azienda. A Mazzotta sono stati confiscati anche sette supermercati a Leverano, Nardò e Maglie. Continua la polemica sul treno Frecciarossa destinato a concludere la sua corsa sui binari della stazione di Bari. Si apre uno spiraglio da parte della regione, pronta a trattare con Trenitalia per trovare un accordo. Quella che si apre sarà una settimana particolarmente intensa per la battaglia a favore dell'allungamento fino a Lecce del tragitto di Frecciarossa, anziché solo fino a Bari come previsto da Trenitalia a partire dal prossimo 20 settembre. Mentre prosegue la mobilitazione del territorio che da più parti protesta contro quella che definisce una discriminazione delle province di Lecce, Brindisi e Taranto rispetto al resto della Puglia, la regione ha preso in mano le sorti del collegamento avviando un primo dialogo a distanza con i vertici della società delle ferrovie dello Stato. Trenitalia ha aperto al dialogo proponendo alla regione Puglia di pubblicare un bando sulla tratta. Loredana Capone, che nelle scorse settimane aveva insistito perché le parti sedessero attorno a un tavolo di confronto, ieri su Facebook ha ribadito l'impegno dell'ente. Continuiamo a batterci per trovare soluzioni concrete, scrive l'assessore Capone, per il Salento, per la Puglia e per tutti quegli operatori economici che invece di andarsene alla ricerca di maggiori profitti dove il costo del lavoro è più basso, hanno deciso di rimanere qui e di lottare creando occupazione e aumentando il nostro PIL. Si apre uno spiraglio e noi subito lo raccogliamo, prosegue l'assessore. Ci sono tanti modi sul campo per raggiungere il punto di pareggio dell'investimento, nessuno va trascurato. Orientamento confermato anche dal governatore Michele Emiliano. Quella del bando potrebbe essere dunque una delle ipotesi percorribile, almeno in teoria. Altre strade sono quelle relative al cosiddetto modello Ryanair che ha incentivato il vettore low cost a fare scalo negli aeroporti pugliesi attraverso un'imponente campagna di promozione territoriale di cui i voli veri e propri sono una delle voci. In questo caso l'incentivo all'azienda, ipotizzato dalla Regione, riguarderebbe invece la garanzia di coprire le perdite economiche qualora i treni tanto desiderati restassero vuoti. Scenario che nonostante i flussi turistici, estivi e le tante richieste continua evidentemente a preoccupare Trenitalia. Intanto lo sportello dei diritti di Lecce lancia una proposta, garantire ai leccesi la tratta fino allo scalo del capoluogo pugliese gratuitamente. Si tratta di una soluzione che a detta del portavoce dell'Associazione dei Consumatori Giovanni Dagata non è solo una provocazione, ma una necessaria compensazione per tutti quei residenti e viaggiatori che trovandosi o dovendosi recare nelle tre province escluse, Lecce, Brindisi e Taranto, subiscono non solo la beffa, ma anche il danno di perdere tempo prezioso tra tratte intermedie e attese snervanti. Una buona notizia che speriamo sia presto foriera di altre positive e che dunque intanto si liberi il vitivinicolo pugliese dal cappio imposto dell'inserimento della vite nell'elenco delle piante soggette al divieto di movimentazione. E il commento del senatore Dario Stefano ai risultati dei test di patogenicità resi noti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che hanno confermato che il ceppo di Xilella presente in Puglia non contamina la vite. Ora, sottolinea Stefano, è quanto mai necessario che il Ministero e Regione tengano alta la guardia in vista della riunione di Bruxelles del 17 e 18 settembre prossimi, dalla quale ci attendiamo la definitiva eliminazione di ogni vincolo sul vitivinicolo. Parliamo adesso di ambiente, nuova tappa per la rivoluzione Monteco, il sistema di raccolta differenziata porta a porta a lecce, che dunque si estende in altri quartieri. Tutte le indicazioni per chi non ha ancora ritirato il kit. La raccolta differenziata porta a porta si estende a lecce anche nelle zone comprese tra Viale Grassi, Via Vecchia Carmiano, Via Monteroni, Torremozza, Via Novoli fino a Villa Convento, Viale della Repubblica, Belloluogo e Borgo Pace. Nello stesso tempo gli obsoleti cassonetti stradali vanno in pensione. Gli ecoinformatori sono impegnati nella distribuzione del kit ad attività commerciali, condomini e utenze domestiche e nell'incontro ascolto e dialogo continuo con la cittadinanza per chiarire dubbi, ricevere segnalazioni, ottimizzare i servizi erogati. I cittadini che non sono stati trovati in casa al momento della consegna del kit di raccolta hanno ricevuto apposita cartolina nella buca delle lettere con le indicazioni su dove ritirare personalmente kit e materiali informativi o di delegare altra persona in caso di impossibilità recarsi personalmente. Per agevolare i cittadini che ancora non sono provvisti di kit, oltre alla distribuzione a domicilio, dallo scorso 31 agosto è stato allestito un punto mobile di distribuzione del kit in via Monteroni nei pressi dell'Acquedotto Pugliese, da lunedì al sabato dalle 9 alle 13. In alternativa è sempre attivo il front office ubicato in Chiesetta Balsamo alla via Pozzuolo e attivo da lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 17. Essere in possesso del kit e dei materiali informativi è indispensabile per non trovarsi impreparati al momento dell'avvio del nuovo servizio. Restiamo in tema e parliamo ancora di raccolta differenziata. Sono già tanti i verbali elevati da quando il Comune di Lecce ha serrato i controlli tesi a prevenire ed arginare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in strada da parte delle utenze, soprattutto domestiche. Dallo scorso lunedì, infatti, ispettori ambientali, vigili e guardie ecologiche, su indicazione dell'assessorato all'ambiente guidato da Andrea Guido, hanno intensificato le azioni di controllo volte a individuare i cittadini che ancora, per un motivo o per un altro, nelle zone in cui è stato avviato il porta a porta, hanno deciso di non utilizzare il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, preferendo abbandonare i sacchetti di immondizia lungo la strada o nei luoghi che fino a qualche settimana fa erano occupati dai vecchi contenitori stradali. Si rischia, lo ricordiamo, dalle 100 alle 400 euro e in più, qualora dovesse essere accertato l'abbandono da parte di attività commerciali o aziende, anche il deferimento all'autorità giudiziaria. Lo ricordiamo ancora che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane. Parliamo di cronaca. I gnoti hanno dato alle fiamme il parco archeologico di Parabita. L'incendio ha letteralmente distrutto un'area di oltre 1000 metri quadrati, contenente i resti di un insediamento preistorico collocato tra il bronzo finale e gli inizi dell'età del ferro. Caccia agli autori dell'insano gesto. Il servizio. Vandali in azione a Parabita. Un incendio doloso ha interessato il parco archeologico locale, un bene importantissimo per la comunità salentina e non solo. Insediamento preistorico esteso oltre 1000 metri dove persistono reperti riconducibili all'età del bronzo e del ferro. testimonianze preziose e di grande valore. Stando ai rilievi effettuati dalle forze dell'ordine pare che l'incendio sia stato appiccato con del liquido infiammabile sparso nella vegetazione circostante. Non ci sono dubbi sulla natura dolosa del rogo che ha interamente cancellato le tracce del sito archeologico inaugurato nel 2009 e costato ai contribuenti circa 800 mila euro. A lanciare l'allarme sono stati alcuni turisti guidati da uno storico locale. A nulla sarebbero servite dunque le limitazioni apposte della protezione civile che ha installato lucchietti e cancellate per proteggere il villaggio preistorico al fine di scongiurare atti vandalici. Oltre all'aspetto economico va sottolineato in ogni caso il danno culturale ed immagine per l'intero paese, troppo spesso ormai abbandonato all'incuria e vittima di episodi analoghi. Umanizzare la tecnologia applicandola all'assistenza è questa la vocazione dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti che utilizza un robot a quattro bracci entrato a far parte del gruppo operatorio dell'ospedale. Quando a operare è il robot i vantaggi sono molti, è mini invasivo e garantisce leggerezza e precisione, viene già applicato in ginecologia e urologia. L'ospedale regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti parte con l'utilizzo del sistema robotico Da Vinci per il trattamento chirurgico dei tumori ginecologici, un'innovazione tecnologica che potenzia ulteriormente le possibilità di chirurgia minimamente invasiva per la cura delle patologie più complesse della donna. Il benessere della donna affetta da patologie ginecologiche severe quali tumori, endometriosi, prolassi eccetera sarà inoltre al centro di un percorso di formazione rivolto ai ginecologi del territorio per implementare nel meridione l'utilizzo delle tecniche endoscopiche con lo scopo di migliorare la qualità della vita e nelle donne più giovani la prevenzione della capacità riproduttiva. La chirurgia robotica non rappresenta solo un potenziamento dell'armamentario tecnologico a disposizione degli ospedali più avanzati bensì una tecnica di cura attraverso la quale fornire migliore qualità della vita alla paziente sia durante l'intervento che in fase post-operatoria. In questo senso l'ospedale generale regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti rappresenta un esempio di avanguardia poiché utilizza da diversi anni il robot Da Vinci in particolare nel campo dell'urologia. Da settembre 2015 però l'utilizzo del Da Vinci si estende anche alla ginecologia per la cura sia di soggetti affetti da tumore che di particolari casi di patologia benigna complessa. Tali risultati sono raggiungibili grazie all'accuratezza della chirurgia endoscopica robot assistita che consente una visione tridimensionale all'interno dell'addome e l'utilizzo di strumenti con movimenti intraddominali a 360 gradi altrimenti impossibili alla mano umana. Un reale vantaggio dunque in termini di efficacia, di cura e soprattutto di qualità della vita. Adesso parliamo di turismo e trasporti. Dal 5 settembre stop al servizio Salento in bus, un'occasione perduta per allungare la stagione turistica nonostante sia ancora boom di presenze a Lecce e nelle principali località turistiche del Salento. Il servizio. L'estate nel Salento sembra non voler finire. Il weekend appena trascorso ha fatto registrare, complice le condizioni meteo favorevoli e le temperature sopra la media, un notevole flusso di turisti sia in città che lungo i litorali. Ma si alternano luci e ombre perché se da una parte si registra il pienone dei vacanzieri di settembre, dall'altra l'assenza di servizi e trasporti rende difficoltosa la permanenza e gli spostamenti di chi ha scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza nel nostro territorio. In particolare è terminato dal 5 settembre Salento in bus, il servizio della provincia di Lecce che consentiva a turisti e residenti di spostarsi in lungo e in largo nella penisola salentina. Quest'anno Salento in bus è stato garantito ricavando un budget dai fondi regionali per i servizi minimi. La provincia, nel quadro di una ridefinizione ancora incerta dei suoi compiti e di un drastico ridimensionamento delle risorse economiche, non è stata in grado di aggiungere un centesimo in più. Accade dunque che un sistema di trasporti molto utilizzato per raggiungere le principali località turistiche e articolato in nove linee, finisca la sua corsa quando invece sarebbe stato utile prolungare il servizio, magari rimodulando frequenze e percorsi al periodo in questione. Da una parte quindi si registrano i risultati incoraggianti di una stagione balneare che lentamente si allunga, dall'altra si fanno i conti con una programmazione insufficiente. Sposi e non solo, un evento per parlare del matrimonio, le sue caratteristiche e tutti gli ingredienti per poterlo organizzare al meglio. Nella splendida cornice di Villa Hollywood a Ruffano, una speciale kermesse sul tema del matrimonio. Sì, a Ruffano la location è una delle più belle della provincia, soprattutto all'esterno è stata curata in maniera meticolosa per l'occasione. Diciamo che a differenza delle fiere di sposi, tipo le promesse di sposi, che viene celebrata nel padiglione di Galatina o diciamo in piazza Palio a Lecce, che ormai è una manifestazione storica ed è una manifestazione molto statica, questa è una manifestazione dinamica in cui le coppie o chi viene a vedere vede effettivamente la bontà di toccare con mano anche quello che avviene. Quindi c'è una disponibilità da parte degli espositori, con dei laboratori, ma anche della proprietà che mette a disposizione questa location che per l'occasione è stata messa a nuovo. È una struttura che nasce da 22 anni, che anno per anno diciamo che la aggiorniamo sempre, stiamo sempre in attività sia interna che esterna, siamo soddisfatti della riuscita di questa splendida manifestazione che da tanto tempo che abbiamo programmato questo evento. Noi sfruttiamo tutti i tipi di servizi, dalla macchina d'epoca ai fiori alla musica, tutto ciò che riguarda cerimonie, abiti da sposa, manifestazioni, tutto ciò che riguarda il matrimonio dall'A alla Z. Molte spose ci scelgono per il verde e per tutti gli esterni che abbiamo molto molto curati. Passiamo adesso allo sport. Dopo il brutto esordio del Lecce nella prima di campionato, il tecnico e la squadra giallorossa tornano al lavoro per preparare la partita che vedrà il Lecce ospite sul difficile campo della Juve Stabia. Dopo la sconfitta rimediata contro la Fidelissandria al Via del Mare, molto è il lavoro da fare. La squadra innanzitutto dovrà dimenticarsi di chiamarsi Lecce, ma dovrà giocare da Lecce. E adesso vediamo il servizio. Numeri da capogiro per la prima del Lecce al Via del Mare. Più di 10.000 spettatori, un incasso che supera i 65.000 euro e una sconfitta per 3 a 1 ad opera dell'Andria. Doveva essere il giorno del Lecce, ma lo è stato in negativo. Sonora infatti la sconfitta in casa contro la Fidelissandria. Il tecnico Asta già da oggi dovrà trovare le risposte a tutto quello che non ha funzionato nella gara di esordio. Dovrà innanzitutto far capire alla squadra che in Lega Pro bisogna scendere in campo come lupi affamati, senza sottovalutare l'avversario. La squadra giallorossa sembra essere ancora lontana dalla forma fisica ottimale, con reparti scoordinati tra loro e meccanismi di gioco da rodare. Ma è mancata soprattutto la mentalità. Una squadra distratta, scese in campo senza umiltà ed è forse proprio ciò che manca a questo Lecce. La squadra dovrà dimenticare della bella campagna acquisti e di essere in Lecce. Dovrà iniziare a giocare da Lecce, a pensare di partire alla pari contro tutte le compagini del girone, perché in queste categorie vince chi scende in campo, la squadra che ha più fame, chi affronta l'avversario dando il massimo e giocare per 91 minuti a ritmi alti. Tutto questo domenica lo ha fatto la squadra di Mister D'Angelo, che non ha sbagliato praticamente niente. Antonino Asta ne è consapevole, dichiarando a fine gara che tutto è andato male. Moscardelli, autore del momentaneo 1 a 2, è dispiaciuto per la brutta figura rimediata davanti al numeroso pubblico. Come detto, da oggi bisogna resettare, riprendere a lavorare dimenticando di chiamarsi Lecce. Bisognerà preparare con cura la prossima gara che Lecce dovrà giocare sul campo difficile della Juve Stabia, che nella prima di campionato è stata sconfitta a Melfi e che sicuramente vorrà rifarsi in casa. Bene, questa era l'ultima notizia, termina qui questa edizione del TG8, io vi rimando ai prossimi aggiornamenti, vi auguro buon proseguimento di serata, arrivederci. Grazie.